La gente dovrebbe ormai ammettere che probabilmente i Duran Duran sono una delle migliori band mai esistite. Così ancora oggi molti fan scrivono e commentano alcuni dei brani più popolari della band, come per esempio quello che oggi ci fa da colonna sonora, ossia All Back The Rain. Qui si mescolano sapientemente ritmo, sonorità elettroniche e la voce di Simon Le Bon, un cantante che è anche icona e non a caso a giugno è stato nominato membro dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi resi alla musica e alla beneficenza. Le Bon, 65 anni, si è dichiarato sorpreso e ha definito l'onorificenza una delle più importanti del Regno Unito un onore incredibile e del tutto inaspettato. L'investitura è arrivata nel corso del King's Birthday Honours. È giusto che l'onore sia stato assegnato non solo per il mio ruolo nella musica, ma anche per il lavoro che ho avuto la fortuna di svolgere al di fuori della band per alcune delle cause in cui credo, ha spiegato proprio il frontman dei Duran Duran. Per citarne solo due, ha aggiunto, spero che questo momento contribuisca a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Blue Marine Foundation e sull'importanza del suo lavoro di conservazione e su Centerpoint. La prima è un'associazione che si batte per la conservazione marina. Le Bon in effetti è da sempre appassionato velista, mentre la seconda offre ai giovani senza tetto un posto dove stare mentre ricevono l'aiuto di cui hanno bisogno per diventare indipendenti. Ma cos'è l'ordine imperiale britannico? Beh, ricordiamo che è stato istituito dal re Giorgio V nel 1917, un ordine cavalleresco creato per colmare le lacune del sistema delle onorificenze britanniche premiando i servizi non solo militari durante la Prima Guerra Mondiale. L'ordine è organizzato in cinque classi, sia civili che militari appunto, e i gradi vanno da membro a cavaliere o dama di Gran Croce. Con il tempo ha acquistato sempre più prestigio, riconoscendo dei contributi significativi in vari campi, come proprio l'arte, la scienza, la medicina e il servizio pubblico. Dunque è fin qui il presente, ma torniamo adesso al 1982, anno della nostra hit di quella All Back the Rain, che faceva parte dell'album Ria, un album che peraltro in copertina aveva una misteriosa donna che di recente si è anche scoperto chi fosse a 42 anni dalla pubblicazione del disco. Infatti è stata svelata l'identità della modella che ispirò l'artista americano Patrick Nagel per l'illustrazione di copertina. La foto da cui tutto è partito ritraeva infatti la modella Mercy Hunt, e fu pubblicata nel numero di Vogue Parigi a febbraio dell'81. Sono sorpresa di scoprire dopo 42 anni che io sono anche Rio sulla famosa copertina dell'album dei Duran Duran nei primi anni 80, scritto proprio in un post sui social Mercy Hunt. Adoro i Duran Duran e io e Tom abbiamo fatto suonare Rio da un DJ al nostro matrimonio ormai 31 anni fa. Oggi sono ancora qui, così colpita dai tour e dalla musica che Duran Duran hanno creato e continuano a creare. È incredibile. Grazie mille all'illustratore della copertina di questo album, Patrick Nagel, che non è più con noi. Ora a Barry Hunt, il suo assistente tecnico, che ha confermato che la copertina e il sorriso sono ispirati a questa foto, mando il mio ringraziamento. Chi l'avrebbe detto? Che emozione! Così è appunto la modella di Rio. Noi adesso celebriamo tutto ciò tornando proprio all'82 e a quella All Back The Rain. Grazie per l'ủiore!